Il nome Ci sta Visto Dai Ciro Ti puoi accomodare perché sei salvo Scusami mi scelgo, c'è una platinetta che vuol dire una cosa Non mi fate piangere No, 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 per carità Mi pare, detto con la moderazione possibile, ingiusto Perché ciò che ha fatto Laura È stato entrare in empatia vera col pubblico Magari sbagliando qualche intenzione Ma mi perdoni con tutto rispetto che si può avere per il suo sforzo Nemmeno paragonabile a ciò che suscita questa signora Grazie a tutti Grazie a tutti